A causa di un problema tecnico, il capitolo numero 6 di Fallen è mancante, ma non vi preoccupate, lo stiamo recuperando con questa registrazione. Rapture di Lauren Kate, capitolo 6, un'attesa snervante. A Vienna pioviginava. La città era avvolta da una densa foschia che aiutò Daniel e gli esclusi ad atterrare invisibili sul cornicione di un imponente edificio poco prima che calasse la notte. La prima cosa che vide Luce fu la grandiosa cupola di rame che scintillava verde nel mare di nebbia. Daniel la depose davanti alla cupola, in fondo allo spiovente del tetto di rame rifinito da una bassa balaustra di marmo, tra le pozze di acqua piovana. «Dove siamo?» domandò lei, ammirando la cupola ornata di suntuosi festoni di stucco dorato, con le finestre ovali incise a motivi floreali troppo alte per essere viste da occhi mortali, a meno che, come lei, non si tenesse fra le braccia di un angelo. Il palazzo dell'Hofsburg. Daniel scavalcò una grondaia di pietra e si fermò sul bordo del tetto. Le sue ali sfiorarono la balaustra di marmo bianco, che parve di un grigio smorto al confronto. «Residenza di imperatori, di re, e oggi di presidenti austriaci. E' qui che si trovano Ariane e gli altri?» «Ne dubito», rispose Daniel. «Ma è un buon posto, per cominciare a orientarci prima di andarli a cercare». Il resto del palazzo era formato da un intricato complesso di edifici ai lati della cupola. Alcuni, quadrangolari, racchiudevano grandi cortili in ombra, una decina di piani più in basso, altri, rettangolari, si allungavano a perdita d'occhio nella nebbia. I tetti di rame scintillavano di diverse sfumature, dal verde più chiaro e brillante all'azzurro cupo, come se all'edificio principale fossero stati aggiunti altri segmenti nel corso del tempo e le lastre di rame si fossero sedate per la pioggia in epoche diverse. Gli esclusi girarono intorno alla cupola, appoggiandosi ai comignoli anneriti dalla fuligine che punteggiavano il tetto del palazzo e si fermarono davanti all'asta della bandiera austriaca rossa e bianca. Luce, sempre al fianco di Daniel, si ritrovò fra lui e una statua di marmo che raffigurava un guerriero con l'elmo da cavaliere e una lunga lancia dorata. Seguirono lo sguardo della statua che abbracciava tutta la città. L'aria odorava del fumo dei cammini e di pioggia. Sotto la cappa di nebbia e umidità, Vienna scintillava in una miriade di luci natalizie. Era affollata di strane automobili e pedoni dal passo frettoloso, abituati alla vita di città e alla luce e all'usse. Era estranea tutto questo. In lontananza svettavano le montagne e il Danubio, lambiva placido la periferia. Luce ebbe l'impressione di essere già stata lì. Non avrebbe saputo dire di preciso quando, ma provò una sensazione sempre più intensa di déjà vu. Si concentrò sul gazebo dell'animato mercatino natalizio al centro della piazza davanti al palazzo. Osservò le candele tremolare nelle lanterne rotonde di vetro rosso e verde e i bambini che si rincorrevano e si trascinavano dietro cagnolini di legno a rotelle. E all'improvviso accadde. Rammentò con soddisfazione il giorno in cui Daniel le aveva comprato dei nastri per i capelli di velluto cremesi proprio in quel mercato. un ricordo semplice, felice e suo. Lucifero non poteva averlo. Non avrebbe potuto rubare quel ricordo né altri, non a Lus, né al brillante, sorprendente, imperfetto mondo che si stendeva sotto di lei. Fremette per la determinazione di sconfiggerlo e per la rabbia di sapere che a causa di quello che lui stava facendo, perché lei si era rifiutata di obbedirgli, tutto questo avrebbe potuto scomparire. «Cosa c'è?» le domandò Daniel, posandole una mano sulla spalla. Lus non voleva rispondere. Non voleva dirgli che ogni volta che pensava a Lucifero si sentiva disgustata di sé. Si levò il vento dalla cappa di nebbia che si dissipava, affiorò una gigantesca ruota panoramica sulla sponda opposta del fiume. La gente si godeva il lento giro come se il mondo non dovesse mai finire, come se la ruota potesse girare per sempre. «Hai freddo?» Daniel le avvolse con la sua grande ala bianca. Il suo peso sovrannaturale le diede un senso di oppressione, perché le rammentava che i suoi bisogni di essere umano e le premure di Daniel per alleviarli, almeno in parte, rallentavano la missione. La verità era che Lus era infreddolita, affamata ed esausta, ma non voleva che Daniel la coccolasse. Aveva cose ben più importanti da fare. «Sto bene!» Lus, se sei stanca e spaventata. «Ho detto che sto bene, Daniel!» sbotto lei, ma si pentì subito di essere stata sgarbata. Tra gli ultimi filamenti di nebbia scorse alcune carrozze che portavano i turisti a vedere la città e le sagome indistinte delle persone che vivevano la loro vita, proprio come Lus stava cercando di fare con tutte le sue forze. «Mi sono forse lamentato troppo da quando abbiamo lasciato la Sword and Cross?» gli chiese. «No, sei stata eccezionale. Ti assicuro che non sverrò, né morirò per un po' di freddo e di pioggia». «Lo so, la schiettezza di Daniel la sorprese. Avrei dovuto capire che anche tu lo sapevi. In genere i mortali sono limitati dalle loro necessità fisiche, cibo, sonno, calore, riparo, ossigeno, paura di morire e così via. Per questo motivo la maggior parte della gente non sarebbe preparata a un viaggio così. Ho deciso da tempo, Daniel. Io voglio essere qui. Non ti avrei mai lasciato andare da solo. È stato un accordo reciproco». «Bene, allora, ascoltami. Tu hai il potere di liberarti dai tuoi vincoli mortali». «Cosa? Posso non sentire freddo?» «Sì». «Perfetto». Lus si infilò le mani gelate nelle tasche dei jeans. «E il profumo dello strudel di mele?» «La mente deve vincere sulla materia». Lei sorrise suo malgrado. «D'accordo. Abbiamo già stabilito che puoi respirare per me. Non sottovalutarti». Daniel abbozzò un sorriso. «La questione riguarda più te che me. Provaci. Dì a te stessa che non hai freddo, che non hai fame, che non sei stanca». «Come vuoi», sospirò lei. «No, no». Cominciò a borbottare scettica, ma poi incontrò lo sguardo di Daniel. Lui la riteneva capace di cose che lei non avrebbe mai pensato di poter fare. Credeva che fosse la sua forza di volontà a fare la differenza fra recuperare l'aureola e perderla. In quel momento la teneva stretta fra le mani. Una prova tangibile. E ora le stava dicendo che le sue esigenze di essere umano erano tali solo perché lei lo pensava. Decise di dare una possibilità a quell'idea assurda. Raddrizzò le spalle e scandì le parole nell'aria grigia e umida. «Io, Lucinda Price, non ho freddo, non ho fame, non sono stanca». Il vento soffiò. La torre dell'orologio suonò le cinque in lontananza e fu come liberarsi di un pesante fardello. Non si sentiva più esausta, ma riposata, pronta a qualsiasi cosa l'aspettasse quella sera, decisa a vincere. «Che tocco di classe, Lucinda Price», commentò Daniel. Trascendere i cinque sensi alle cinque di pomeriggio. Lei gli presi il bordo dell'ala, ci si avvolse, lasciando che il suo calore la permeasse. Questa volta il peso dell'ala fu un piacevole benvenuto in una nuova potente dimensione. «Posso farlo?» Le labbra di Daniel le sfiorarono la fronte. «Lo so». Quando Lucy si voltò, si accorse che gli esclusi non erano più intorno alla cupola, né la fissavano con i loro occhi vacui. Erano scomparsi. «Sono andati a cercare la bilancia», le spiegò Daniel. «Dedalus ci ha fornito alcuni indizi su dove potrebbero essere. Ma ho bisogno di sapere con una certa sicurezza. Se gli altri sono tenuti prigionieri e dove, in modo da distrarre la bilancia il tempo necessario agli esclusi per liberarli». Sedette a cavalcioni dall'aquila dorata che dominava la città, Luce si sistemò accanto. «Non dovrebbe volerci molto, ma dipende da quanto sono lontani. Poi forse servirà un'altra mezz'ora per seguire tutto il protocollo della bilancia». Inclinò la testa per calcolare il tempo. «A meno che non decidano di convocare un tribunale, come è successo l'ultima volta che mi hanno creato problemi. Troverò il modo di risolvere la questione stanotte. Posticipare sarebbe inutile». Le prese la mano, di nuovo concentrato su di lei. «Dovrei tornare per le sette al massimo, il che significa fra due ore a partire da adesso». Luce aveva i capelli fradici di pioggia, ma seguì il consiglio di Daniel e si disse che non importava e come d'incanto non fu più un problema. «Sei preoccupato per gli altri?» «La bilancia non farà loro del male. E allora perché ne hanno fatto a Daedalus?» Immaginò Arienne con gli occhi gonfi e lividi, Roland con i denti spezzati e insanguinanti. Mai e poi mai avrebbe voluto vedere i suoi amici ridotti nelle condizioni del giovane escluso. «Oh», dice Daniel, «la bilancia sa essere terribile. Provano piacere nel causare dolore e potrebbero procurare qualche disagio ai nostri amici, ma non andranno fino in fondo. Quelli non uccidono, non è il loro stile». «E quale sarebbe il loro stile?» Luce incrociò le gambe sotto di sé, sulla dura e umida superficie del tetto. «Non mi hai ancora detto chi sono o cosa vogliono?» La bilancia si è formata dopo la caduta. Sono un piccolo gruppo di angeli minori. Furono i primi a cui venne chiesto durante la chiamata di dichiarare da che parte stare, se loro scelsero il trono. «Ci fu una chiamata?» chiese Luce, pensando di non aver sentito bene. Sembrava più l'appello in classe che non il paradiso. Dopo lo scisma nei cieli e a tutti noi venne chiesto di scegliere. E così, a partire dagli angeli delle sfere inferiori, ciascuno di noi fu chiamato per giurare lealtà al trono. Daniel fissò la nebbia e fu come se stesse rivedendo l'accaduto. Ci vogliono secoli per chiamare tutti gli angeli, dai ranghi più bassi alle gerarchie superiori. Probabilmente ci è voluto più tempo per recitare tutti i nostri nomi di quanto ce ne sia voluto per l'ascesa e la caduta dell'impero romano. Tuttavia, non riuscirono a completare la chiamata prima. Daniel trasse un sospiro ammareggiato. «Prima di cosa?» Prima che accadesse qualcosa che fece perdere al trono la fiducia nelle sue schiere angeliche. Luce si rese conto che quando Daniel esitava in quel modo non era per mancanza di fiducia in lei o perché pensava che non avrebbe capito, ma perché malgrado tutte le cose che lei aveva visto e sentito, probabilmente era ancora troppo presto perché conoscesse tutta la verità. Così non domandò come avrebbe desiderato fare. Cosa aveva indotto il trono a interrompere la chiamata quando le gerarchie angeliche superiori non avevano ancora scelto da che parte stare. Lasciò che Daniel parlasse quando si sentì di nuovo pronto. «Il paradiso!» Scacciò tutti quelli che non si erano schierati con lui. «Ricordi quando ti ho detto che alcuni angeli non giunsero mai a scegliere. Erano fra gli ultimi della chiamata, quelli di rango più elevato. Dopo la caduta, il paradiso perse la maggior parte dei suoi arcangeli. Chiuse gli occhi. Quelli della bilancia che avevano avuto il tempo e la fortuna di dichiararsi leali approfittarono della situazione. Quindi, dato che la bilancia aveva giurato lealtà al paradiso per prima, dedusse Lussa. Pensarono di avere un ruolo superiore agli altri», concluse Daniel per lei. «Da ipocriti hanno sostenuto di servire il paradiso assumendo l'incarico di agenti di controllo celesti. A quell'incarico se lo sono inventati. Non è stato assegnato loro. Dopo la caduta, la bilancia ha sfruttato un voto di potere creato dalla mancanza degli arcangeli. Si sono confezionati quel ruolo su misura e hanno convinto il trono della loro importanza». «Stai dicendo che hanno fatto pressione su Dio?» «Più o meno». Promisero di riportare i caduti in paradiso, di radunare gli angeli smarriti, di restaurare le schiere celesti. Per alcuni millenni insistettero perché tornassimo dalla parte giusta. Ma a un certo punto, smisero di cercare di cambiare il nostro punto di vista, ora per lo più si limitano a impedirci di fare qualunque mossa». Il suo sguardo scintillò con durezza e Lussa si domandò cosa ci fosse di tanto brutto in paradiso da indurre Daniel a esiliarsi. La pace celeste, che non era forse preferibile alla condizione in cui si trovava con tutti che aspettavano la sua scelta, Daniel proruppe in una risatina amara. «Ma gli angeli degni delle loro ali che hanno scelto di tornare in paradiso non hanno bisogno della bilancia per arrivarci. Chiedi a Gabe, chiedi a Rien. La bilancia è una truffa, anche se hanno avuto un paio di successi». «E tu?» replicò lei. «Tu non hai scelto nessuna parte. E così ti danno la caccia, giusto?» Un affollato tram rosso tracciò una curva sulle rotaie della piazza e risalì lungo una stradina stretta. «Mi inseguono da anni», dichiarò Daniel, «costruendo bugie, montando scandali». «Ma tu non ti sei ancora schierato col trono? Perché?» «Te l'ho detto». «Non è così semplice», rispose lui. «Ma è ovvio che non hai intenzione di schierarti con Lucifero. Certo, però non posso spiegarti migliaia di anni di argomentazioni in qualche minuto. La situazione è complicata da fattori che vanno oltre il mio controllo». Volse di nuovo lo sguardo alla città, poi lo abbassò sulle proprie mani. «Ed è un insulto sentirsi chiedere di scegliere. Un insulto che il tuo creatore ti ordini di ridurre la vastità del tuo amore ai meschini confini di un gesto plaetale, plateale durante una chiamata». Sospirò. «Non lo so. Forse sono troppo sincero». «No», cominciò a dire Luce. «A ogni modo, la bilancia. Sono burocrati celesti, simili ai presidi superiori, passacarte dispensatori di punizioni per piccole trasgressioni di cui non importa niente a nessuno. Il tutto in nome della moralità». Anche Luce tornò a guardare la città, che si andava velando di tenebre. Pensò al vicepreside dal fiato pestilenziale di Dover, il cui nome non riusciva a ricordare, che non aveva mai avuto alcun interesse alla sua versione dei fatti e aveva firmato i documenti per la sua espulsione dopo l'incendio in cui era rimasto ucciso Trevor. «Sono stata fregata da gente come quella. A tutti noi è successo. Sono osservanti scrupolosi di regole che loro stessi hanno inventato e che ritengono infallibili. Non piacciono a nessuno, ma purtroppo, alla fine, il trono ha concesso loro il potere di controllarci, di tenerci senza giusta causa e di condannarci per crimini giudicati da una giuria scelta da loro». Luce rabbrividì, e non per il freddo stavolta. «Pensi che abbiano preso Ariane, Roland e Annabel. Perché? Perché trattenerli?» Daniel sospirò. «So che hanno preso Ariane, Roland e Annabel. Sono accecati dall'odio. Non riescono a capire che ostacolandoci aiutano Lucifero. Deglutì a fatica. Ma la cosa che mi fa più paura è che sono anche in possesso della reliquia». In lontananza dalla nebbia emersero quattro paia di ali sfilacciate, gli esclusi. Mentre si avvicinavano al tetto del palazzo, Luce e Daniel si alzarono. Gli esclusi atterrarono accanto a Luce con le ali che frusciarono come ombrellini di carta quando rimpiegarono ai lati. I loro volti non tradivano alcuna emozione, niente nel loro atteggiamento. Suggeriva l'esito della missione. «Allora?» l'interrogò Daniel. «La bilancia ha presso il controllo di un posto vicino al fiume», annunciò Vincent, indicando la grande ruota panoramica. «Il padiglione abbandonato di un museo è in restauro, pieno di teli e ponteggi, così nessuno si accorge di loro. Non ci sono sistemi di allarme». «Sai sicuro che si tratti della bilancia?» chiese Daniel l'ansioso. Uno degli esclusi a noi. «Abbiamo percepito il loro marchio, l'emblema dorato sul loro collo. La stella ha sette punte, una per ciascuna virtù santa». «E a Rien, Roland e Annabel?» si informò Luce con apprezzione. «Sono prigionieri della bilancia. Hanno le ali legate», rispose Vincent. Luce si voltò e si morse il labbro. Doveva essere una cosa terribile per un angelo. Non poteva pensare a Rien priva della libertà di muovere le sue ali iridescenti. Non riusciva a immaginare nessun materiale abbastanza forte da contenere il potere delle ali screzzate di Roland. «Beh, se sappiamo dove si trovano, andiamo subito a liberarli», disse. «È la reliquia?» domandò Daniel lentamente. Lei lo guardò a bocca aperta. «Daniel, i nostri amici sono in pericolo!» «Ce l'hanno loro?» insistette lui. Poi guardò Luce e la cinse la vita con un braccio. «Tutto è in pericolo. Salveremo a Rien e gli altri, ma dobbiamo anche trovare la reliquia». «Non sappiamo niente della reliquia!» Vincent scosse la testa. «Il magazzino del museo è sorvegliato, Daniel Grigori. Aspettano il tuo arrivo!» Gli occhi viola di Daniel scandagliarono la città lungo il fiume per individuare il museo. Le sue ali fremettero. «Non dovranno aspettare molto!» «No!» lo implorò Luce. «Finerai dritto in trappola! Cercheranno di prenderti in ostaggio come hanno fatto con gli altri!» «Gli altri devono averli provocati in qualche modo! Finché seguirò il loro protocollo, solleticando la loro vanità, quelli della bilancia non mi faranno prigioniero!» La rassicurò. «Andrò da solo!» Scoccò un'occhiata agli esclusi e aggiunse «disarmato!» «Ma gli esclusi hanno il compito di proteggerti!» ribatte Vincent con il solito tono piatto. «Ti seguiremo a distanza e...» «No!» Daniel alzò una mano per interromperlo. «Voi vi occuperete del tetto del magazzino. Avete avvertito la presenza di qualche membro della bilancia lassù?» Vincent annuì. «Un paio! La maggior parte si trova vicino all'ingresso principale!» «Bene!» disse Daniel. «Oserò le loro stesse procedure contro di loro! Una volta che avrò raggiunto il portone, la bilancia perderà tempo a identificarmi, a perquisirmi per vedere se ho un materiale non consentito e qualunque cosa che riescano a far sembrare illegale. Mentre io li terrò occupati all'ingresso, voi esclusi vi aprirete un varco nel tetto del magazzino e libererete Roland, Arienne e Annabelle. Se vi capitasse di incontrare qualcuno della bilancia, all'unisono gli esclusi aprirono i trench per rivelare le fere tre di Stella Saette e gli archi. «Non potete ucciderli!» li ammonì Daniel. «Per favore, Daniel Gregory!» insistette Vincent. «Staremmo tutti meglio senza di loro!» Si chiamano bilancia non soltanto per la minuziosa e maniacale osservanza delle regole. Rappresentano anche un elemento fondamentale per controbilanciare le forze di Lucifero. «Siete abbastanza abili da eludere i loro mantelli. A noi serve soltanto rallentarli e per questo una minaccia sarà più che sufficiente.» «Ma loro vogliono rallentare te!» replicò Vincent. «E tutti questi ritardi ci condurranno all'oblio.» Luce stava per chiedere quale ruolo avrebbe avuto lei in quel piano, quando Daniel l'ha presa fra le braccia. «Tu devi restare qui, a guardia della reliquia.» Fissarono insieme l'aureola appoggiata alla base della statua del guerriero. Era imperlata di pioggia. «Ti prego non discutere.» «Non possiamo permettere che la bilancia si avvicina alla reliquia.» «Tu e l'aureola sarete più al sicuro qui.» «Oleanna resterà per proteggermi.» Luce guardò l'esclusa, che ricambiò con gli occhi vacui e grigiastri. «Ok, aspetterò qui.» «Spero che nessuno si sia ancora impossessato della seconda reliquia», disse Daniel, inarcando le ali. «Una volta liberati gli altri, scogiteremo un piano per recuperarla insieme.» Luce strinse i pugni, chiuse gli occhi e baciò Daniel, abbracciandolo per un ultimo lungo istante. Un secondo dopo, lui era già in volo, le ali maestose, sempre più piccole, nell'oscurità della notte, con i tre esclusi che volavano in formazione accanto a lui. Ben presto non furono altro che polviscolo fra le nuvole. Oleanna non si era mossa. Se ne stava immobile, come una versione con il trench delle statue che decoravano il tetto. Teneva le mani strette davanti al petto, i capelli biondi raccolti in una coda così tirata che pareva dovessero staccarsi dalla fronte. D'un tratto infilò la mano nel trench, che emanò un forte odore di secatura. Quando estrasse una stella saetta, le incrociò al suo arco. Luz indietreggiò in fletta. «Non temere, Lucinda Price», disse Oleanna. «Voglio solo essere pronta a difenderti nel caso arrivasse un nemico». Luz preferì non immaginare quale nemico avesse in mente la ragazza bionda. Sedette di nuovo sul tetto e si riparò dal vento dietro la statua del guerriero con la lancia durata. Più per abitudine che per reale necessità. Si sistemò in modo da poter vedere la torre dell'orologio di mattoni scuri con il quadrante dorato. Le cinque e mezzo. Avrebbe contato i minuti fino al ritorno di Daniel e degli esclusi. «Perché non ti siedi anche tu?», chiese Oleanna, appostata alle sue spalle con la freccia pronta all'uso. «Preferisco stare allerta». «Già, immagino che non si possa stare allerta da seduti». Luz si sforzò di ridere. Dal basso venne l'ullullato di una sirena. Un'auto della polizia sfrecciò a tutta velocità intorno a una rotatoria. Quando si allontanò intorno al silenzio, Luz non seppe come riempirlo. Fissò l'orologio strizzando gli occhi per vedere attraverso la nebbia. Chissà se Daniel aveva già raggiunto il magazzino. Cosa avrebbe fatto Ariane, Roland e Annabel vedendo gli esclusi? Luz si rese conto che Daniel aveva dato la piuma come segno di riconoscimento soltanto a fila, come avrebbero fatto gli angeli a fidarsi degli esclusi. Incassò la testa fra le spalle e il suo corpo si irrigidì per un senso di frustrante inutilità. Perché era seduta lì, in attesa, senza nient'altro da fare, se non inventare stupide battute. Avrebbe dovuto svolgere un ruolo attivo nella missione. Dopotutto era lei che la bilancia mirava. Andare in soccorso dei suoi amici o trovare la reliquia invece di starsene seduta lì come una damigella in pericolo che aspetta il ritorno del suo cavaliere. Ti ricordi di me, Lucinda Price? Le domandò l'esclusa con voce così sommessa che Luz la odia malapena. Perché voi esclusi? Tutto a un tratto ci chiamate per nome e cognome, si volse e vide che la testa della ragazza era inclinata verso di lei con l'arco e la freccia appoggiati alla spalla. È un segno di rispetto, Lucinda Price. Adesso siamo alleati con voi, con te e Daniel Grigori. Ti ricordi di me? Luz riflette qualche istante. Sei una degli esclusi che hanno combattuto contro gli angeli nel giardino dei miei genitori? No. Scusa, Luz si stringse nelle spalle. In realtà non mi ricordo proprio tutto del mio passato. Ci siamo già incontrate? L'esclusa sollevò la testa. Ci conoscevamo prima? Quando? La ragazza scrollò piano le spalle e soltanto allora Luz si accorse che era molto graziosa. Prima? È difficile da spiegare. Cosa non lo è? Luz distorse lo sguardo. Non era in vena di impelagarsi nell'ennesima conversazione enigmatica. Infilò le mani gelate nelle maniche del maglione bianco e osservò il traffico che procedeva lento sulle strade rese scivolose dalla pioggia. Le auto parcheggiate a spina di pesce nelle viuzze. I passanti dai lunghi impermeabili scuri che attraversavano i punti illuminati. Le braccia cariche di borse della spesa. Luz si provò una dolorosa fitta di nostalgia. Chissà se i suoi stavano pensando a lei. La immaginavano nella piccola stanza alla Svurden Cross e Callie era tornata a casa sua a Dover. Se la figurò seduta a gambe incrociate sul freddo sedile sotto la finestra in attesa che lo smalto rosso scuro si asciugasse sulle unghie mentre chiacchierava al telefono raccontando il suo viaggio per il ringraziamento a qualche amica che non era lussa. Una nuvola scura passò veloce davanti all'orologio nascondendo alla vista proprio mentre batteva le sei. Denel era via da un'ora ma a lei sembrava un anno. Guardò le campane della chiesa che suonavano e le grandi lancette dell'antico orologio e rievocò le vite trascorse prima dell'invenzione del tempo lineare. Quando il tempo era scandito dalle stagioni dalla semina e dal raccolto dopo il sesto rintocco udì un altro tonfo più vicino e si volse appena in tempo per vedere Oliana che si piegava sulle ginocchia per poi crollare fra le braccia. Luce la girò sul dorso e le toccò il viso. Oliana era svenuta. Il rumore che Luce aveva sentito era quello di un colpo alla testa dell'esclusa. Un'enorme figura ammantata di nero la sovrastava. Sembrava vecchio oltre ogni immaginazione. Aveva il volto segnato da una ragnatela di rughe, strati di pelle floscia sotto gli opachi occhi azzurri e il mento sporgente. I denti storti, neri e giallastri. Nella mano destra impugnava con vigore l'asta della bandiera che doveva aver usato come arma. La bandiera austriaca penzolava all'estremità dell'asta, strusciando sulla superficie del tetto. Luce scattò in piedi, i pugni serrati ancora prima di domandarsi a cosa sarebbero serviti contro quel nemico formidabile. Le ali del vecchio angelo erano di un azzurro chiarissimo. Malgrado la sua corporatura, alta e massiccia, erano piccole e compatte, con un'apertura poco più ampia di quella delle braccia. Sul mantello aveva appuntato un piccolo oggetto, una piuma dorata, screzzata di nero. Luce sapeva da dove veniva quel simbolo, ma non riusciva a spiegarsi il motivo per cui Roland avrebbe dovuto dare a quell'orida creatura una propria piuma. Non l'avrebbe mai fatto. La piuma era piegata e spennata, recisa di netto. La punta era scura di sangue, invece di risprendere dritta, come quella che Daniel aveva dato a Phil. Sembrava avvizzita e sbiadita. Un trucco. Chi sei? chiese Luce, cadendo sulle ginocchia. Cosa vuoi? Un po' di rispetto. La gola dell'angelo si contraste in uno spasmo, come se volesse abbagliare, ma la sua voce uscì trimolante, fievole e vecchia. Guadagnati il mio rispetto, replicò Luce, e io te lo darò. Lui le rivolse un mezzo sorriso maligno e abbassò la testa. Poi si scostò il mantello per esporre la nuca. Luce strizzò gli occhi nell'oscurità. Sulla nuca della creatura spiccava un marchio dorato che scintillava al bagliore dei lampioni e della luna, una stella a sette punte. Era un membro della bilancia. Mi riconosci adesso? È così che lavorano i burocrati del trono? Attaccando un angelo innocente? Ah, nessun escluso è innocente. Nessun altro lo è, se per questo finché non dimostra il proprio onore. Tu hai dimostrato il tuo disonore. Colpendo una ragazza alle spalle, insolente, l'uomo arricciò il naso sdegnato. Non faresti molta strada con me. Infatti resterò qui. Gli occhi di Luce scrutarono per un istante la mano palida di Ogliana, che impugnava ancora la stella Saetta. Invece no, ribatté il membro della bilancia in tono sprezzante, come irritato da quelle chiacchiere insulse. Luce afferrò la stella Saetta mentre l'angelo si avventava su di lei. Purtroppo era molto più veloce e forte di quanto sembrasse. Le strappò di mano la freccia e le diede uno schiaffo così forte da farla cadere all'indietro. Poi le puntò la stella Saetta a un soffio dal cuore. Non possono uccidere i mortali! Non possono uccidere i mortali! Continuava a ripetersi Luce. Ricordò il patto di Bill. Lei aveva una parte immortale dentro di sé che poteva essere uccisa. La sua anima. Ma non aveva alcuna intenzione di separarsi da essa. Non dopo tutto quello che aveva passato. Non con la fine così vicina. Sollevò una gamba pronta a sferrargli un calcio, come aveva visto fare nei film di Kung Fu quando all'improvviso il suo avversario si scagliò la freccia e l'arco oltre il bordo del tetto. La testa di Luce scattò di lato, con la guancia premuta sulla pietra fredda. Vide la freccia roteare in aria e piombare verso le luci natalizze scintillanti nelle strade di Vienna. L'angelo della bilancia si strofinò le mani sul mantello. Ah, è una baccia sudicia! Poi afferrò bruscamente Luce per le spalle e la tirò su. Con la punta del piede spostò l'esclusa. Ogliana gemette, ma non si ridestò. E lì, sotto il suo gracile corpo coperto dal trench, c'era l'aureola dorata. Immaginavo di trovarla qui, commentò il vecchio angelo, chinandosi a raccoglierla con uno scatto fulminio che poi, per poi nasconderla, fra le pieghe del mantello. No! Luce tentò di infilare le mani nel recesso scuro in cui aveva visto scomparire la reliquia, ma ricevette un altro ceffone e ricade sulla schiena, con i capelli fluttanti oltre il bordo del tetto. Luce si portò una mano al viso. Prendeva sangue dal naso. Sei più pericolosa di quanto pensassero, gracchiò lui. Ci avevano detto che era una codarda piegnucolosa. Invece hai coraggio da vendere. Sarà meglio che ti leghi prima di prendere il volo. L'angelo si tolse il mantello con un gesto rapido e lo calò sulla testa di Luce, accecandola per un lungo, orribile momento. Poi, la notte viennese e l'angelo furono di nuovo visibili. Grazie a qualche prodigio, il vecchio indossava un secondo mantello identico a quello che si era appena levato. Si chinò e tirando una cordicella, strinse quello di Luce come una camicia di forza. Quando lei provò a divincolarsi e a scalciare, il mantello la imprigionò definitivamente. Luce gridò, Daniel, non ti sentirà, ridacchiò spietato l'angelo, mentre la sollevava come un fagotto e si avvicinava all'orlo del tetto tenendola sotto un braccio. Non ti sentirebbe nemmeno se gridassi per tutta l'eternità.